A Fari per la moda italiana, Giulia Occhini, la dama bianca del più grande ciclista di tutti i tempi, confeziona modelli in maglia e sa scegliere anche le modelle, tutto sommato. La nostra industria ha veramente consolidato la conquista dei mercati. A Palazzo Fitti in Firenze si sono avute commissioni per decine di migliaia di dollari, dalla civetteria femminile e dai più improbabili cappellini escono miliardi di valuta pregiata. Si godono in pieno inverno gli anticipi dell'estate. Tra qualche mese sarà un'esplosione di bellezza. La moda italiana ha celebrato il suo decimo compleanno, ma ha già un'ossatura solida. Le hanno dato il permesso di fumare. Per la sigaretta come per la moda si tratta sicuramente di esportazione.